Siamo qua questa sera a Pertusio dove c'è stata una serata dedicata alle istanze presentate sul territorio, Paolo Ruzzola, Forza Italia, consigliere regionale, siamo qua davanti a un campo da bocce. In regione ci sono dei bandi aperti anche per queste strutture sportive. Sì, siamo qua, abbiamo raccolto le istanze del territorio e in modo particolare rispetto a questo aspetto delle bocciofili abbiamo un bando aperto fino al 24 aprile che concede a tutti i gestori di bocciofili o di bocciodromi di poter attingere un contributo che abbiamo deciso di dare per andare incontro alle istanze dei gestori che erano determinate dal caro energia e da quello che hanno sofferto ovviamente dalla pandemia. Quindi un modo per dare un contributo a queste strutture che non solo svolgono una funzione di tipo sportivo ma soprattutto di carattere sociale. Si è parlato di tante cose questa sera, di ecosostenibilità, di bonus 110% alla quale la regione sta dando comunque un valido contributo. Sì, il bonus 110% ovviamente come tutti sanno è direttamente dipende solo dal governo. A dire la verità la regione aveva anche provato ad adoperarsi per mettere una misura in cui avrebbe messo a disposizione alcuni milioni di euro per i crediti incagliati. L'ultimo decreto ha chiuso le porte a questa opportunità però sappiamo che come governo ci si sta muovendo per cercare di risolvere almeno la parte che è determinata dai crediti incagliati. Contributi anche rivolti alle attività imprenditoriali sul territorio. Sì, in questo momento c'è un bando aperto, un bando che è aperto fino al mese di settembre importante per tutte le industrie e le aziende proprio rivolto all'efficientamento energetico delle attività produttive intese come stabilimento o come procedure operative quindi attrezzature e macchinari è un fondo che arriva dai fondi europei, è un FESR e quindi anche qui invitiamo le aziende ad accedere a fare i progetti perché si parla di oltre 90 milioni di contributo. Mauro Fava, questa sera qua a Pertusio un incontro con le istituzioni locali per parlare della vicinanza tra la regione e il territorio. Oggi è stata una bella giornata abbiamo parlato di varie problematiche che abbiamo sul territorio siamo partiti a parlare un po' della situazione del futuro dell'energia sulle nostre aziende sul cambio di produzioni per arrivare a invertire le produzioni dal motore termico a quello elettrico sicuramente avremo ancora delle anni davanti per far cambiare non idea ma da tutelare quante le nostre imprese stanno lavorando sul nostro territorio perché l'importante è arrivare a avere le idee chiare ma avere più che altro le possibilità di non perdere posti di lavoro ma di aumentarli facendo dei cambiamenti come sono oggi messi sulla carta nella comunità europea non sono quelli che danno lo sviluppo al nostro territorio anzi un danno perché andremo a perdere decine e decine di migliaia di posti di lavoro. Tante anche le altre domande le stanze presentate dagli amministratori locali tra cui si parla di patrimonio artistico culturale, di infrastrutture un po' tutti i problemi che ci sono legati a questo territorio Il mio impegno l'ho sempre messo fin dall'inizio fin dai primi anni che mi muovevo sia prima in consiglio comunale a Cornier poi come consigliere della città metropolitana oggi ho la fortuna di essere un consigliere della regione Piemonte la mia parte principale è quella di stare con i piedi ben saldi a terra e di lavorare per il territorio il territorio nostro per anni è stato dimenticato oggi abbiamo la fortuna e anche l'ha dimostrato la situazione e anche i commenti che hanno fatto i sindaci qualcosa si è mosso tante cose restano ancora da fare ma il nostro impegno c'è il mio personalmente sugli amministratori del nostro territorio ma io devo guardare anche tutto il Piemonte ma sicuramente come si dice non la prima lemosina è quella di casa ma guardiamo casa nostra perché ne ha bisogno tanto quanto ne hanno bisogno gli altri territori oggi abbiamo visto delle situazioni propizie abbiamo preso che negli anni abbiamo lavorato proprio con il mio collega Paolo prima in città metropolitana su una situazione una viabilità che è sempre stata al centro dell'attenzione che era la 4,60 oggi si può dire ancora con qualche cantiere ma sicuramente è stata messa in sicurezza con questo passaggio verso Adanas è avvenuto negli anni che noi sedevamo tra i banchi del consiglio di città metropolitana dell'ex provincia abbiamo una variante della 4,60 che vuol dire dare un'opportunità in più al nostro territorio perché si va a sviluppare una rete stradale dov'è che ti toglie via dei passaggi all'interno dei comuni dov'è che le viabilità odierna non è più consentita di passare con mezzi pesanti quelli che potevano essere alcune decine di anni fa oggi i mezzi sono cambiati i trasporti sono se non triplicati quadruplicati perché i mezzi sono sempre di più la volontà del produttore di vendere il prodotto di farlo correre ma le richieste dei fornitori sono sempre maggiori e quella è l'esigenza che c'è abbiamo la ferrovia un'infrastruttura molto importante per il nostro territorio si prevede nel settembre del 2025 che si è completata con i treni sulla tratta si sta lavorando anche con tutti gli amministratori perché certamente come si diceva prima quando si fa il cambiamento si porta allo sviluppo si porta del benessere sul territorio ci sono anche delle criticità come dei cantieri come ci sono delle situazioni sulla ferrovia ci saranno dei passaggi livelli da chiudere, da trasformare e noi abbiamo già avuto un ritardo più di due anni su questa situazione col passaggio livello di Volpiano che non me ne voglia nessuno ma era da chiudere era da fare un certo tipo di servizio non c'erano i soldi si sono trovati le opportunità sempre ringraziando il nostro assessore Marco Gabusi che per il territorio e quanto riguarda la mia persona è sempre vicino con la massima fiducia proprio per dare quella necessità che a un territorio come il Canavese richiede da anni e finalmente qualcosa si muove come dico solo qualcosa c'è tanto ancora da portare si porterà nel tempo noi abbiamo ancora da arrivare a questo fine mandato da portare quelle opere che abbiamo iniziato a lavorare di portarle a termine questo è quello che mi sento di dire l'impegno mio c'è e speriamo di avere anche dei frutti Sindaco di Pertusio questa sera si è tenuta questa riunione questo incontro tra gli amministratori regionali e il territorio per porre appunto delle istanze che il territorio ha avanzato e ha le esigenze che ci sono in questo momento Buonasera, grazie sì, questa serata organizzata dal comune di Pertusio in collaborazione con Strategia Canavese è stata ideata fortemente voluta per mantenere il contatto tra i consiglieri regionali che sono intervenuti e che ringrazio il consigliere Fava il consigliere Ruzzola e gli amministratori del territorio proprio perché anche in questo momento in un momento in cui tante sono le risorse tante sono le possibilità di ricercare finanziamento serve avere una guida serve avere un orientamento per avere sostanzialmente al meglio e per poter sostanzialmente mettere a terra al meglio nel miglior modo possibile per il nostro territorio queste risorse dall'altra parte è bene avere tutti i sindaci sempre riuniti del territorio perché bisogna fare squadra su tanti progetti come quello che ha proposto Marco Bonatto di Frassinetto dell'Acqua e che tutti sosteniamo ovviamente perché una risorsa importante che scarseggia e ce ne rendiamo conto tutti e quindi è importante per il futuro del territorio non solo dal punto di vista energetico che era un po' il tema della serata ma anche dal punto di vista dell'alimentazione umana dell'agricoltura e poi della sicurezza per quanto riguarda incendi e questo grazie sono stato molto contento di ospitarli tutti e spero di poter partecipare ad altri incontri di questo tipo ancora un po' che bello che c'è non bene grazie